ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video vi mostrerò nel dettaglio le cover ultra slim per iphone 7 plus prodotte da wii aprendo la confezione troviamo la cover è un'utilissima pellicola protettiva nella parte posteriore della pellicola possiamo leggere le sue caratteristiche non contiene colla quindi una volta rimossa non lascerà alcun residuo sul display è antigraffio e grazie allo speciale materiale non creerà bolle durante l'applicazione ma la caratteristica più importante è che blocca il 99 per cento dei raggi uv emessi dal display lcd dell'iphone ovviamente è presente anche una rapida guida per la corretta installazione come potete vedere il punto di forza di questa cover è l'eccezionale spessore in questo video vi mostriamo quella in silicone trasparente in plastica rigida colorazione oro è in colorazione nero opaco ma adesso è arrivato il momento di provarle sull'iphone in questo video vi mostriamo il momento di provarle sull'iphone Spessore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Trovate il link di questi tre prodotti in descrizione. Grazie per la visione. Al prossimo video.